ragazze buongiorno e buon mercoledì 15 di giugno ore 12 e 27 circa ragazze allora mi devo sbrigare ho capito questa cosa mi devo sbrigare assolutamente a far vedere gli articoli che abbiamo scaricato perché se no finiscono subito e non avete l'assortimento e devo sbrigarmi anche a fare le foto allora intanto look of the day di oggi ragazze me lo sono provato me ne sono innamorata li ho stravenduti sarà perché sono carini perché sono stampati perché sono freschissimi perché sono taglia unica ragazze pantalone a palazzo in tessuto leggerissimo è stampato per quanto riguarda la base ho scelto la nuanza con il nero però i fiorellini sono chiari e all'interno c'è anche il marroncino oltre ad essere comodissimo grazie all'elastico che ha in vita ragazze è una taglia unica e stanno veramente benissimo a tutte quante le taglie questo modellino qui rimane corto sopra la caviglia se lo mettete come ho fatto io a vita medio alta che mi supera praticamente l'ombelico oppure possiamo metterlo leggermente più sceso e quindi arrivare quasi alla caviglia insomma mettetelo un po come vi pare questo pantalone ma l'importante è che lo mettete perché ci state freschissime oltre che vestite molto fighe per quanto riguarda poi sopra ragazze ho deciso di mettere il top in raso quello che c'è un prezzo piccolo 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 quello che abbiamo ancora disponibile nella versione bianca e nera perché c'era anzi bianca e blu perché c'era nera e c'era bordò ma stamattina ragazze sono finiti sarà perché me l'avete visto indossato e lo so ci avete ragione allora il pantalone al momento disponibile e nella versione con il marrone che ragazze ho fatto veramente tanta fatica a non prendere perché mi piaceva tanto anche la versione marrone e nella versione con la base chiara e quindi il contrasto rispetto a quello che porto io c'era anche nella versione nera andata via cinque minuti fa nemmeno a dirlo perché insomma l'avete visto bello lo voglio anch'io avete ragione allora perché vi sto facendo vedere tutto il mio look of the day e vi sto dicendo che cosa che colori abbiamo disponibili perché ragazzi mi è arrivata una comunicazione da parte del magazzino stanno cominciando a scarseggiare i tessuti per quanto riguarda la collezione estiva quindi andranno avanti ancora un po' con la produzione con le pezze di tessuto che abbiamo ancora disponibili dentro al magazzino e poi dopo si stopperà il tutto velocissime ragazze ore 13 riprendo a farvi vedere quali sono gli articoli che ci sono arrivati nuovi quali sono stati gli articoli che abbiamo avuto in riassortimento e che quindi sono ancora disponibili vi dico che cominciamo dal completo questo qui della vetrina ragazze spolverino lungo e pantalone a palazzo questo modellino qui ce l'abbiamo disponibile e nella versione verde militare proprio come quello della vetrina e nella versione blu elettrico eccolo qui e nella versione nera ancora disponibili poi mi sono rientrati questi ve li avevo fatti vedere probabilmente ieri nelle stories comunque ormai ce li ho in mano e ve li faccio vedere mi sono rientrati di nuovo disponibili i vestiti quelli che rimangono leggermente sbastatini che hanno i passanti con cui possiamo abbinare la cinta che abbiamo in dotazione che volando possiamo sostituire passante che a tono su tono che quindi non vi va a dare fastidio il modello girocollo il tessuto crepa freschissimo rimane leggermente sbastatino sta benissimo indosso lo stiamo stravendendo complice il fatto che ha la ruscetta sulla spalla e che quindi va a chiudere leggermente allora questo è bellissimo ragazzi tessuto misso cotone leggerissimo e pizzo bello 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 con l'oro la bretellina la manica spezzata tutta quanta fatta ad uncinetto ragazzi è un sogno per quest'estate taglia unica nell'interno del vestito troviamo la maglina quindi tutta fibra naturale a pelle che va a chiudere anche la parte del merletto perché se no sarebbe trasparente ovviamente ragazzi la lunghezza è quella giusta me lo sono preso anch'io vi farò vedere poi come sta indossato comunque la lunghezza ragazze mi arriva quasi al ginocchio morbido fresco e tutto impunturato impunturato nella parte davanti guardate che bello con questi fili oro questo con la bronzatura bellissimo taglia unica ottima vestibilità poi vi giro da questa parte così vi faccio vedere che mi sono ci sono ancora disponibili i coprispalle in tessuto di crepe con la manica a pipistrello taglia unica ragazze questo lo avete visto indossato ce l'abbiamo ancora disponibile nella versione nera nella versione blu elettrica e nella versione bianca mi sono rientrati e poi vi dico che mi sono ritornate di nuovo disponibili non ho un assortimento completo perché il nero per esempio è già terminato il modello di canottiera quella lunga quella sbasatella quella con il colla v disponibile ancora nella colorazione amarena nella colorazione celestone nella colorazione blu elettrico nella colorazione viola nella colorazione bordeaux di corsissima siamo andate a riprendere la maglia quella con i tiranti quella con il collo che si può regolare la scollatura un po' più aperta un po' più chiusa che si può mettere anche con le spalle scese quella soprattutto che è in tessuto sangallo ragazze di nuovo disponibile finalmente questo spettacolo nella colorazione sabbia e nella colorazione bianca e nella colorazione nera taglia unica ottima vestibilità me la sono provata supera anche il passante del jeans e quindi supera anche l'ombelico per quanto riguarda la lunghezza e poi shorts in tessuto con la zippetta di dietro in un tessuto che è tipo crepe stampato delizioso taglia unica a un prezzo micro ragazze questo ce l'abbiamo coordinato con il bolerino o meglio con la bralette dello stesso tessuto con le coppe con le bretelline che si regolano e con i fili elastici che vanno a chiudere e tengono ben ferma la parte di dietro ragazze questo anche come sottogiacca è bellissimo a un prezzo microscopic new entry ancora new entry allora questa maglia l'abbiamo amata nella versione stampata in tactile che dovrei avere ancora disponibile che vi faccio vedere ragazze perché merita merita eccola qui l'ho trovata 1 2 3 versione in tactile della maglia con lo scollo che si può regolare che possiamo mettere anche con le spalle scese che taglia unica e che abbiamo stampata nella versione con la fantasia con la base nera e i fiori sul fucsia versione con la base panna e i fiori sul bluette versione con la base panna e i fiori sul glicine viola insomma con tutte le nuance del viola ragazze l'abbiamo venduta benissimo l'abbiamo fatta fare anche nel tessuto di crepe taglia unica con un'ottima vestibilità anche perché ragazze questa è la cosa bella è che è praticamente una canottiera e la ruche va a coprire la parte della spalla quindi state fresche come se fosse in canottiera ma carine e composte come se aveste una magliettina taglia unica ottima la vestibilità disponibile nella colorazione sabbia nella colorazione bianca nella colorazione nera nella colorazione amarena bellissimo questa marena che sta uscendo ma guardate che spettacolo allora estate caldo pantaloni larghi e leggerissimi oppure oppure i pantaloni leggeri leggeri effetto bermuda modellino con la cinta in cotone un semi elasticizzato con un'ottima vestibilità questo modellino qui va a tagliere ragazze e risvoltino che volendo si può tirare giù e quindi acquistiamo un pochino più di lunghezza bello comodo e pratico disponibile nella colorazione verde militare e nella colorazione nera questo bermuda secondo me può essere messo e con una t shirt o comunque con una maglia un pochino più sportiva e magari con una ciabattina ma anche con un top sciallato un po' più importante magari senza la cinturina in ecopelle che abbiamo in dotazione può essere abbinato tranquillamente a un bel tacca spillo magari lo prendiamo un po più preciso oppure guardate quanto è bello questo è uno dei miei modelli preferiti ragazze chi mi conosce lo sa che questo modello per me nell'estate non può mai mancare modello di top a fazzoletto con le coppe tessuto e tactile quindi è quello fantastico bretellina che si regola come se fosse reggisieno la parte di sotto che ricorda vagamente un fazzolettino ragazze comunque copre e le ciappette diciamo quasi tutte nella parte di dietro davanti pure ragazze rimane lunghetto si lateralmente leggermente più cortino ce l'abbiamo disponibile questo modellino qui che ha le bretelle come si stava dicendo che si regolano come se fosse reggisieno con le coppe davanti che calzano benissimo guardate che carina pure questo effetto leggermente ricciatino qui che da pure un po più di movimento disponibile e nella versione con la base sul blu ginsato i fiori bianchi oppure disponibile nella nella nuance con la base verde e i fiori panna il bordino sotto sempre in tessuto di tactile ragazze questo sta benissimo sulle su una minigonna su uno shorts su mermudino come quelli che vi ho fatto vedere prima ragazze questo è veramente da mettere sopra a tutto anche sopra le culotte per esempio se volete in maniera un pochino più audace anche sopra una culotte in maglina come quelle che abbiamo scaricato ieri che vi ho fatto vedere le stories altra news questo pensate parlando l'altro giorno detto certo però un bel top svasato proprio come questi qui di raso che stiamo vestendo benissimo perché hanno la bretellina lo scollo avanti e dietro ma rimangono leggermente svasatini lo potrebbero anche fare in un tessuto tipo sangallo tata detto fatto anzi è leggermente operato non è proprio sangallo perché è tipo merletto ragazze è bellissimo non ho fatto in tempo a pensarlo che già l'avevano fatto vabbè disponibile questo spettacolo questo spettacolo come vi stavo dicendo di top con lo scollo avanti e dietro la bretellina fina fina leggermente più svasatino nella parte di sotto che ha la maglina a pelle quindi tutta fibra naturale a pelle ma anche la parte esterna solo che è traforata è in fibra naturale ragazze disponibile nella versione nera nella versione bianca nella versione rosso bordo nella versione cammello e nella versione verde militare taglia unica ottima la vestibilità ottimo il tessuto perché tutta fibra naturale riveste tantissimo e poi per concludere la serie in vestitini summertime col merletto ragazze abbiamo visto il modello con le bretelline operato nella versione lunga lunga eccolo qui ve lo faccio rivedere perché è veramente una cosa bellissima guardate tutto un punturato tutto tempestato dei merlettini dorati le bretelle che si regolano come se fosse reggiseno i tiranti che stanno dietro che scendono benissimo la gonna che rimane svasata ma guardate che spettacolo tutta quanta effetto merletti una delizia abbiamo visto il modello con la manica spezzata ovvero con la bretellina e la mezza manicuccia che questo modellino qui non poteva mancarci eccomi qua il modello con la bretellina corto delizioso il tessuto è sempre lo stesso quindi è tutto effetto merlettino troviamo anche qui tutto il bordino dorato guardate che carino questo anche la scollatura che leggermente si può regolare con il laccetto ragazze quindi può rimanere anche a voi nella parte di sotto troviamo la fodera che si ferma praticamente sopra al ginocchio e la parte di sotto che va tutta quanta effetto merletto trasparentino delizioso tutta la parte interna ovviamente anche di questo modellino qui è in maglina quindi tutta fibra naturale anche per questo vestitino che è fantastico come sono fantastici ragazze la comodità la praticità del bermuda che però è ancora più comodo questo modellino qui perché ragazze alle lassi con vita il laccetto quindi lo regolate bene voi morbido comodo quello proprio da combattimento per tutti i giorni ragazze noi ce l'abbiamo effetto bermuda volendo si può tirare giù anche su questo modellino qui il risvoltino e farlo leggermente più corti più lungo o più corto a seconda dell'effetto che volete tasca a destra tasca a sinistra taglio chinos questo è la praticità ragazze a taglia disponibile nella versione verde salvia disponibile nella versione nera disponibile nella versione sabbia fantastico questo è veramente quello velocissimo poi la signora maria è passata subito perché mi ha telefonato ma già ve l'avevo fatto vedere che mi sono ritornate di nuovo disponibili le maglie quelle con la ripresa davanti quelle con lo scolla v quelle che calzano benissimo hanno la mezza manica la lunghezza è quella giusta il modello è quello sbasato il tessuto è quello fantastico perché è maglina di viscosa quindi calzano veramente bene anche a chi è un po più formosetta anche a chi ha un pochino più di seno ragazze di nuovo disponibili mi è rimasta la colorazione verde militare nero ce l'abbiamo ancora disponibile ancora disponibile pure nella versione rosa big bubble ancora disponibile nella versione camel e poi un altro nostro cavallo di battaglia chi ci segue da un paio d'anni insomma sa che questo è un modellino che lavoriamo sempre in estate perché comodo perché fresco perché pratico perché è una maximaglia ma può essere un mini abito e potrebbe essere anche un copricostume possiamo metterlo con uno shorts con un leggins ma anche senza niente sotto si può lasciare bello ampio così che rimane svasatello ma si può portare anche con una cintura e quindi andarlo a chiudere leggermente e la parte di sotto rimane leggermente più sagomadina perché va a chiudersi sotto perché ha lo scolla v perché la mezza manica ragazze insomma queste ce le ha tutte le cose per essere un articolo che si vende benissimo lo sapete anche voi disponibile la maximaglia con lo scolla v nella versione bianca disponibile disponibile questo spettacolo di maglia che calza perfetta da una taglia 40 messa con una cinturina fino a una taglia 52 da lasciare proprio morbida easy comoda pratica disponibile quindi vi stavo dicendo nella colorazione avion disponibile nella colorazione bordo disponibile nella colorazione camera questo pure bellissimo questo da mettere pure con lo stivaletto quello da 15 euro e 99 modello texano sarebbe benissimo sarebbe un bel outfit e non lo so può essere pure che ve lo farò vedere nelle foto look of the day disponibile nella colorazione verde militare poi vi dico che mi sono ritornati aspetta mi sono ricordata vi dico che mi sono ritornati di nuovo disponibili queste ragazze ci ho messo penso tre ore dai tre ore per venderli tutti l'altra volta che le abbiamo scaricate tant'è che non ero riuscita nemmeno a fare le foto di nuovo disponibile il top crop con le coppe in tessuto di maglina con le bretelline effetto coda di topo cioè quella proprio fina 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 non così a bretellina ma proprio a striscettina di nuovo disponibile nella colorazione blu elettrico nella colorazione verde militare nella colorazione nera taglia unica ottima la vestibilità è da mettere anche sotto una maglia troppo scollata da mettere anche senza niente e insomma un jeans un pantalone sotto perché comunque la lunghezza è a top crop ma arriva quasi all'ombelico quindi è ottima la vestibilità taglia unica la maglina rimane sagomata altre news ragazze questa è una blusetta che ha un tessuto incantevole allora leggerissimo leggermente anche lavorato è un una mussola è quello proprio leggero leggero proprio freschissimo dalla linea morbida con la bretellina tutta quanta in macramè ragazze guardate che carino tutta quanta fatta tipo uncinetto il tessuto già ve l'ho fatto vedere veramente delizioso non so se si vede la particolarità questo modellino qui con la manica morbida morbida e spezzata quindi che parte poi da qui ce l'abbiamo disponibile in taglia unica nella versione verde salvia nella versione nera nella versione bianca guardate che belli guardate la particolarità del tessuto anche nella versione bordeaux e nella versione camel ecco forse sul camel si vede ancora meglio il disegnino vabbè comunque ragazze delizioso perché poi rimane lunga e giusto cioè copre il passante si appoggia diciamo sulla tasca del pantalone ma non è eccessivamente lunga è carina da mettere dentro al pantalone e sblusare oppure carina da lasciare fuori e poi ragazze spettacolo questo è veramente uno spettacolo il tessuto è crepe parliamo di un top che ha un filo elastico nella parte di dietro che va a chiudere la scollatura che rimane sbasato ma non eccessivo e soprattutto che ha lo scollo a incrocio nella parte di dietro questo è delizioso disponibile nella colorazione sabbia disponibile nella colorazione nera disponibile e ce l'abbiamo anche nella versione viola amarena ed è una cosa incantevole ragazze allora vi dico poi prima che mi dimentico che finalmente ragazze mi sono arrivati gli shorts quelli stretti ragazze mi sono rientrati ce l'abbiamo assortiti a partire dalla taglia 36 fino a una taglia 48 di nuovo disponibile lo shorts in jeans la lunghezza è quella giusta volendo si può fare risvolto il modellino è push up tasca a destra tasca a sinistra tessuto semi elasticizzato che veste benissimo quindi rimane bella aderentino sulle gambe ci abbiamo ancora disponibili il modellino quella palloncino quella palloncino che rimane morbido che all'effetto a caramella anche dato dall'elastico nella parte superiore basta a questo punto ragazze vi ho fatto vedere credo proprio tutti gli articoli che abbiamo scaricato ieri se ne ho perso qualcuno occhi aperti perché magari ve lo faccio vedere nel pomeriggio a questo punto 13 e 30 vado a fare due spedizioni ci vediamo a partire dalle 16 mi raccomando e reggiano verscia occhi aperti sul canale di youtube sul ca sulla pagina di tik tok sulla pagina di facebook qui su instagram date a spulciare perché appena ho un secondo di tempo vi posso anche le foto degli articoli nuovi io vado ciao